Perché la Francia è la Francia, appartiene più all'Africa che all'Europa ormai la Francia. Nessuno parla mai che esiste il franco africano, che 15 paesi del subsahariani usano un franco che a Bretton Woods i francesi accettarono le politiche del dollaro, abbandonarono l'UF con loro ma vollero quello che hanno ancora adesso, il franco africano. Su quello hanno fatto la guerra. Certamente, con la base di cibuti e i 15 dell'Africa subsahariana, la Francia, e continua una vecchia politica che a noi costò l'abbandono del Marocco con il governo De Prentis-Cairoli nel 1882. Basta sapere un po' di storia e tutti questi signori che sembrano nuovi, Macron sembra una cosa così nuova, ma ne abbiamo avuti nella storia francese.